Però per fare sì che queste vittorie non siano isolate bisogna continuare a lavorare perché io dico ragazzi vittoria da conference l'ho detto da sempre che era un obiettivo della Roma era fattibile per la Roma ci siamo riusciti anche se noi defusi dobbiamo continuare a festeggiare ma la società deve lavorare come dice Mourinho come fa capire Mourinho perché comunque ancora non siamo competitivi ai massimi livelli e la Roma deve arrivare qui ai massimi livelli perché pure ragazzi io sono troppo contento per i più giovani che non hanno mai visto vincere a Roma mai avete visto che bello vince è il bello del calcio comunque quando si arriva alla vittoria è una soddisfazione unica però per arrivare alle vittorie devi ritornare per tornare a essere competitivo e poi e poi sperare che una volta la fortuna una volta la scuola che è buona e tutto quanto riesce ad arrivare ad arrivare alle vittorie che sono belle qua a Roma poi sono 30 volte più belle ragazzi noi abbiamo festeggiato una conferenza con uno scudetto siamo i campioni del mondo proprio i numeri uno al mondo io dico che la società adesso deve essere brava a far continuare questa scia che ci ha portato qua a questa vittoria però non è che tutti gli anni giochi la Conference League l'Europa League è un percorso piuttosto dove avrai le squadre più forti nel girone avrai le squadre più forti ai sedicesimi a ottavi ai quarti di finale ci saranno chi scenderà dalla Champions League e è difficile il quarto posto è difficile perché la Juventus ragazzi mi dicono che è vicinissima a Pobba l'Inter deve fare delle eccezioni tutto quanto però comunque ha una struttura importante se muovono bene adesso vediamo se riusciranno a prendere Mkhitaryan se prenderanno veramente Dybala come a me mi dicono che l'Inter sta aspettando delle cosette e poi chiuderà Dybala per quanto riguarda Mkhitaryan la possibilità che va all'Inter c'è è inutile negarlo però io ho sentito tutti quanti darlo per fatto all'Inter e a me mi risulta che ancora non è fatta all'Inter nel senso c'è ancora una possibilità c'è un incontro oggi Sky parlava di oggi ma non mi risulta che oggi si è incontrato Diacominto con l'entourage di Raiola credo che credo che l'incontro ci sarà nei primi giorni della prossima settimana fra martedì e mercoledì e perciò ancora Roma ha la possibilità di trattenere Mkhitaryan poi se Mkhitaryan poi l'anno all'Inter ce ne faremo una ragione non è che se strappiamo i capelli poi c'è da affrontare il rinnovo di Zagnolo che eh Zagnolo ragazzi io vi ho sempre detto Zagnolo vorrebbe anche rinnovare a cifre più alte per la Roma almeno prima per la prima della finale della Coppa non era incedibile poi adesso magari il gol in finale della Coppa può aver cambiato anche le cose e soprattutto secondo me anche il fatto che non ce le so veramente offerte concrete e il fatto che alla fine un giocatore a duemilaventiquattro lo devi rinnovare ragazzi lo devi rinnovare diceva beh c'è al duemilaventiquattro ho capito pari a dicembre ti avvicini al duemilaventitré e poi partirei a a pochi soldi credo che se rimane Zagnolo come penso come spero io eh credo che va va deve essere innovato il il procuratore parla anche con altre squadre so sincero me ne risulta una da Premier ve faccio pure il nome il Newcastle però credo che non non è un giocatore che può andare a Newcastle stan soprattutto non spendono quei soldi che vuole a Roma perciò cauto ottimismo io la speranza ce l'ho io spero sempre che Zagnolo rimane poi se la società eh prende una grande offerta e decide di di cambiare rimango sempre che a Roma e e tutto quanto però io io ho un cauto ottimismo adesso si chiuderà la questione Mkhitaryan a breve e poi si lavorerà sul rinnovo di di Zagnolo e Cristante rinnovo di Zagnolo e Cristante quello quello sì e vediamo vediamo come andrà a finire per quanto riguarda il carciomercato entrata ragazzi eh ripeto di Bala oggi dicono che c'è stato questo incontro con la Roma a me non mi risulta poi mi faccio due conti perché non mi risulta né a me né a Sky né eh a Sport Italia e né a quelli proprio bravi non lo so mica perché eh gli altri non sono bravi però fatalità eh non risulta a tutti questa cosa credo che se un incontro così dovrà un po' riduttare a tutti per quanto riguarda eh ho sentito eh ho sentito l'onore trotta il mh e anche credo carezza dicendo che la Roma potrebbe fare un colpo a sensazione per quanto riguarda il il valore del giocatore e tutto quanto io non lo so non so nulla non so se magari la Coppa ha potuto fare ancora se ancora Fiekin e per fare questo colpo a livello inter internazionale ci spero non ci faccio la bocca soci di Romi già dei Lewandowski ragazzi è è improponibile Cristiano Ronaldo eh Cristiano Ronaldo deve proprio abbassasse tanto l'ingaggio deve deve entrare uno sponsor dentro deve spalmalingare cioè è difficile altri nomi non li so può essere anche che la Roma lavora su su un colpo di mercato io tutte queste certezze non ce l'ho non mi piace raccontare cazzate per prendere le le visualizzazioni le cliccate eh sarebbe molto piacere dire ragazzi ho saputo anche io che la Roma farà un colpo non lo so non lo so ci posso sperare quello che vi posso dire è che di bala viene smentito ecco perché uno dice vabbè ma la Roma di bala eh lo so però di bala la Roma lo smentisce poi eh io rimango ai notizie se poi a fine viene ragazzi che vi devo dire di bala la Roma lo smentiva eh come fai a arrivare così sulle notizie però io credo che io credo che il mercato della Roma si accenderà dopo aver sistemato la questione Mighitarian e Zagnolo perché Zagnolo perché Zagnolo perché Zagnolo chi si parla di seconde punte tutto il resto ma io credo che se Zagnolo rimane non puoi fare seconde punte anche Mighitarian è molto importante per per il sviluppo del mercato della Roma io direi c'è tempo c'è se stanno due soluzioni da risolvere il prima possibile Mourinho è partito è andato in vacanza se a Roma presentarsi credo un colpo eh sensazionale a breve non credo neanche che Mourinho partiva per le per le vacanze aspettiamo aspettiamo un attimo c'è tempo eh Perisic e Tottenham io leggo un messaggio Perisic e Tottenham ragazzi a me mi dicono che è vicino ma ancora non è chiuso anche Perisic se sono spinti un po' troppo troppo in là eh ragazzi io eh vedo di solo una cosa aspettiamo dobbiamo avere fiducia la fiducia da far prendere che c'è Mourinho in panchina sta coppa pure che magari i frecchi ne possono ancora averli motivati di più però poi dobbiamo far conto anche con la realtà con un felpe finanziario da una vita dobbiamo far conto anche con eh trecento milioni di buco che ci stanno è chiaro ma non andrà in centro perciò è lecito sognare però rimaniamo sempre con i piedi per terra e occhio alle cassate che girano per prende le cliccate occhio 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 questo non è un attacco a nessuno però eh fa più gioco per per qualsiasi persona che fa questo no? Calcio mercato di di una cosa sensazione perché tutti poi vanno dentro a vedere eh il sito la notizia cliccano e cliccano e cliccare con tante cliccate si prendono anche i soldini su sui siti io io vi parlo di quello di quello che so adesso so di Mighitaria so di Zagnolo e e ripeto Zagnolo 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 vuole rinnovare ma la Roma deve adeguare questo contratto e anche di di tanto e non di poco se si trova l'accordo bene se si trova l'accordo non lo so perché squadre concrete non ci stanno anche se il suo procuratore sta parlando i con i con il Newcastle ma non c'è nulla nulla di concreto non c'è nulla di concreto eh adesso leggerò i i messaggi leggeremo anche magari le notizie commenteremo ah eh scusate fermatevi un attimo mi dicono che Daniele De Rossi può diventare potrebbe potrebbe diventare il ct della nazionale under 21 eh però ripeto potrebbe 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 ok grazie a tutti